L'Ecolab è un delay made in Italy di stampo vintage che punta a imitare il suono dei vecchi eco a nastro. La caratteristica unica dell'Ecolab è la presenza di due delay, selezionabili attraverso il pulsante select e regolabili con le manopole delay time 1 e delay time 2. Il primo, indicato dal led rosso, ha tempi più ampi, mentre il secondo, indicato col verde, ha tempi un po' più rapidi, ma entrambi possono fornire tempi di media durata e questo li rende due veri e propri preset da regolare a piacimento. Per capirci, il delay 1 raggiunge queste velocità. Il delay 2, invece, portato quasi al minimo, suona così. Il delay 1 raggiunge L'Ecolab non è un pedale invasivo ed è ideale per donare profondità al suono. Tuttavia, alzando il mix si possono avere dei giochi ritmici molto interessanti. Tutti i suoni sentiti finora provenivano dalla modalità vintage, dalle ripetizioni più scure. Il pulsante al centro permette di passare alla modern, che dà ripetizioni più trasparenti. Questa è la modalità vintage. Sentiamola in distorsione. Questa, invece, è la modern. Stesse regolazioni. Questa, invece, è la modalità vintage. La maggior presenza data dalle ripetizioni più brillanti lo rende ideale per i soliti riffi alla di edge, ma anche qualcosa di diverso. C'è ancora molto da dire sul Costal Hub Ecolab, ma per quello vi rimando alla recensione su Accordo.it. Questa, invece, è la modalità di passare alla ricorda. Grazie a tutti.